Per la vista a tre quarti, cominciate nuovamente da un cerchio, suddividetelo a metà orizzontalmente e assicuratevi che la linea centrale passi esattamente al centro dei due occhi, visti di tre quarti. Il mento si andrà a trovare sul prolungamento di questa linea. Basta connetterla col cerchio per ottenere la solita sagoma uovo. Ora potete indicare la posizione del naso a metà, tra le sopracciglia e il mento. Continuate con la posizione della bocca, come visto in precedenza. Quando definite i tratti del volto, fate molta attenzione a che la loro dimensione e forma rispetti la prospettiva di tre quarti. Questo è ancora più importante nelle viste di tre quarti con sguardo rivolto verso l'alto o verso il basso. Vedete come l'occhio lontano sia più schiacciato rispetto a quello vicino. Anche l'interno dell'occhio deve essere deformato di conseguenza. Disegnate le sopracciglia. Il naso E la bocca. Per il lato del volto, la fronte segue il cerchio e rientra leggermente per gli occhi, per poi sporgere in corrispondenza delle guance. E rientra nuovamente per il mento. Sfruttate il resto del modello per la sagoma di mento e mascella. Disegnate le orecchie. Nella vista tre quarti dovrebbero essere appena all'interno della sagoma a cerchio. Disegnate il collo e poi aggiungete i capelli. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.